Sì, è stato un amore, grazie! Sì, è bellissimo il telefono, ma non dovevi! Niente, sai, 18 sono importanti! Beh, anch'io ti ho fatto una sorpresa! Sei seduto? Sì, sì! L'ho presa! Finalmente! Finalmente ti sei decisa! Beh sì, adesso lo possiamo fare tranquilli! Non rischiamo più, non ci fermerà più nessuno! Non vi devo l'ora! Sì, sì, però mettiamo subito in chiaro una cosa! Tu te lo devi mettere, dobbiamo essere prudenti! È pericoloso senza! Sì, dai, stai tranquilla! Però adesso non ce l'ho, devo andare sotto un attimo, li vado a prendere! No, no, passi da casa, me gli hai regalati mio padre! Tuo padre? Ma tuo padre? Ma gli hai detto che noi... Sì, mio papà, siamo andati insieme, è sportivo lui! Ma non lo faceva così tuo padre? Vedrai, sono fighissimi, sono neri, però si vedono al buio, hanno una roba speciale... Gli ha voluti lui così! Ma cosa compra? Ma è fuori, neri che si vedono al buio! Guarda che lui lo usa sempre! Ma con... ma con... con tua madre? Eh già, con lei! Con chi gli capita di andare? Oh, ma che c'hai paura adesso? Ti vuoi tirare indietro? No, 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 no! Vieni, vieni, vieni subito! Ok, ciao! Che... no! Ricordati, il casco è obbligatorio e anche il preservativo se sei furbo. La sicurezza non è un optional. Vai sicuro!